Siamo felici e orgogliosi di essere qui a Todi in collaborazione con Cittaslo per una nuova manifestazione che riprende i temi a cui siamo molto legati e quindi il cibo, la musica, l'ospitalità in collaborazione appunto con Cittaslo, con il direttore Olivetti e con Crams che è un gruppo assolutamente straordinario che ha fatto una proposta che abbiamo accorto con grande entusiasmo. Saranno tre giorni di felicità, tre giorni di musica, di incontri, di buon cibo, di buon vino, dei prodotti del territorio con tanti e tanti ospiti che verranno da tutta Italia per godere della nostra ospitalità e del mondo che Todi sta così promuovendo e devo dire con un pizzo di orgoglio, con un grande successo. A tutti voi che siete delle Cittaslo Gemelle diciamo venite a Todi, venite a Todi, siate ambasciatrici e ambasciatori di un mondo che deve continuare a crescere e che sta dando tante soddisfazioni in Italia e nel mondo. Viva Cittaslo e viva l'associazione internazionale.